Ragazzuoli piccola intro veloce oggi facciamo un video particolare quello che devo dirvi però è che se arriviamo a 3000 mi piace per questo episodio il prossimo ve lo faccio XXL da 25 minuti in cui iniziamo a costruire l'Iron Titan iniziamo a fare la prima parte di building dell'Iron Titan vediamo tutte le varie funzionalità andiamo a costruire lo scheletro di questa farm che ci produrrà una quantità di ferro incredibile L'episodio ragazzi è veramente particolare ho fatto un fail estremo io comunque guardate tutto il video mi raccomando ragazzuoli un bel mi piace e buona visione Raga raga ho lasciato Minecraft aperto non so che cazzo è successo d'orca miseria devo andare di corsa a riprendere la roba ma vi giuro io mi sono messo a editare un altro video totalmente a caso e ho perso il No raga no io non mi ricordo neanche dove c'è stavo qua vicino c'è se mi è desponata la roba è un casino ah c'era intorno quindi sono morto tipo da poco però tipo oddio non lo so Cioè questo è il punto non so quanto se poi Minecraft tiene i chunk caricati un casino veloce da ste parti dovrebbe essere esploso un creeper No non mi non so come sono morto io ma oddio c'ho l'ansia raga Ok raga sono morto un'altra volta e ho riguardato le clip però chissà da quanto tempo io ero ma avevo anchillato e niente purtroppo dico purtroppo non possiamo più avere cioè abbiamo perso tutto fondamentalmente fondamentalmente e è un casino Cazzo vedi che vedere che cazzo succede cosa succede se lasci Minecraft aperto porca troia in moda madonna ragazzi e non ti chiudi e non ti chiudi fai le cagate C'è una cazzata questa è una cazzata è una cazzata che ho fatto enorme ma proprio grandissime cioè Fì che cazzo fai c'è hai perso tutto hai perso la spada hai perso l'arco hai perso l'elitra incantata Purtroppo c'è l'altra elitra però così non si può fare perché porca puttana Cioè da viaggi via la prima persona è triste Vabbè vaffanculo e ci rovina tutto l'episodio perché io volevo fare una roba figa e non possiamo farla Cioè io lascio Minecraft aperto un'ora raga cioè sai che cazzo Ma forse anche di più Ehm non lo so ma è tardi stasera è tardi e io mi ero messo a registrare altri video Lasciamo Minecraft aperto mezzanottata che un cazzo fai cioè non si può E vabbè niente l'ho presa under Raga under E adesso questo episodio lo facciamo a rifarci la roba Allora ragazzuoli siamo qua e purtroppo ci dobbiamo riarmare Abbiamo comunque i diamanti per farlo non dovrebbe essere un grande problema decidere di riarmarsi Certo però effettivamente abbiamo perso tanti di quei materiali che mi fa incazzare Veramente tanto veramente tanto Quindi poi dobbiamo dare una svolta a sta serie perché così non andiamo a nessuna parte Adesso iniziamo dal prossimo episodio a fare l'Iron Titan Cioè proprio ciao Iron Titan is the way Tutti felici e contenti e basta perché se no ovviamente non si può fare Allora guardate voglio fare intanto voglio prendermi tutti i vari diamanti E iniziare a rifarmi abbiamo 15 blocchi diamanti Quindi capite che effettivamente problemi tanti non ce ne sono Voglio iniziare a buttare giù questi qua così 27 diamanti e iniziamo so E il metto Poi c'è questo i leggings La chestplate e infine i diamond boots E quindi tac 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 e tac Perfetto Dopodiché ci dobbiamo prendere gli sticchini e fare anche qualche altra cosa del tipo Porca miseria guardate che urto Che urto raga che urto Il Il coso che sarebbe Il diamond Picaxe Eccolo qua ci prendiamo anche la spada Doviamo rifare tutti i set quindi Ci facciamo tutti gli utensili possibili e immaginabili Mi scorre il mouse oggi Proseguendo poi con l'accetta Eccola qua E infine con la pala Successivamente potremo andare a prendere gli enchant Ok va bene come cosa per ora ci siamo possiamo ributtare tutto qua dentro E guardate un po' che siamo di nuovo pronti e carichi Abbiamo di nuovo tutto il set A questo punto che cosa possiamo andare a fare Andiamo intanto a prenderci un arco A unire i vari archi che ci interessano Perché come ben potete sapere qui ci sono davvero tanti archi Abbiamo power 4 unbreaking e mending No punch si mi piace Power 4 va bene Power 3 unbreaking Ci serve un unbreaking e quindi abbiamo unbreaking Power 4 di nuovo Power 5 così facciamo Punch si Mi serve punch Ok già ce l'abbiamo Mending unbreaking power no Mending power Mending unbreaking Ma tutti mending? Flame eccolo qua che ci serviva E poi ci serve infinity E poi abbiamo poco fatto Allora ragazzuoli sono arrivato qua Sto per ecco qua un pigman Stiamo per colpire un pigman E poi unire tutti i vari cosi Ora quello che vi voglio dire Mi si è buggato qualcosa qua Perché sento il rumore infernale Infatti ho tolto tutti i vari rumori Che ci sono qua Perché vi giuro Dava veramente veramente tanto fastidio Aspettate c'è una notifica Devo chiudere Perfetto Adesso ok Inizierà ad arrivare subito sta roba Abbiamo flame e power 4 Dopodiché mettiamo power Flame e power 5 Cioè abbiamo flame power 5 unbreaking Ci serve Adesso 16 ci costa abbastanza Questo piccolo Piccolo dio Sì so che costa parecchio Ma però va bene Poi dobbiamo mettere punch e punch Dato che qui non ce l'abbiamo intanto Unire questi Per fare punch 2 power 3 Poi andiamo a mettere il punch La sopra Ma prima ci mettiamo ovviamente Infine Vabbè che tanto alla fine è uguale Non cambia più di tanto 13 Madonna quanto costa 12 e 13 Eccolo qua A questo punto ci serve Questo e questo vogliono 13 E poi ci mettiamo punch Ok possiamo fare quest'altra upgrade Infinity E a questo punto The last one 29 Mamma mia Flame power Unbreaking Infinity E punch Abbiamo effettivamente tutto quello che ci serve Su un arco Non possiamo desiderare di più E va bene Va bene così Aspettiamo che ci siano 29 livelli Ce l'abbiamo fatta ragazzuoli Bim Ok perfetto Adesso abbiamo un arco come si deve Facciamo scorrere tutti questi cosi E va bene Molto molto bene A questo punto possiamo tranquillamente rimettere via questo Qui c'è un po' d'oro Ma niente di particolarmente grave Pum Ma è flame C'è anche flame Sì infatti mi sembrava che fosse anche flame Ok basta Possiamo tranquillamente andarcene Cavolo quant'è arrivata vicina Scendiamo così Possiamo utilizzare a questo punto La nostra Ender pearl Per andare in questa direction Wop Wow Wow Cazzo 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 Ok Panico totale Ah è vero non ho feather falling qua Cioè sarei morto malissimo Ok ragazzuoli Eccoci di nuovo qua Certo adesso sarà veramente faticoso Riprenderci tutti i manding Tutti i thorns Mi metterò a peschicchiare un po' Con l'esperienza poi della pesca E tutto il resto Riusciremo sicuramente A fare qualcosa di figo Al Al nostro equip Peccato Peccato Che non Che cazzo What the fuck Ah c'è uno scheletro Oddio c'era uno scheletro Ma due scheletro Ci sono due scheletri Guardate Ok devo anche rimettere il suono Music and sound Ma mica per niente Perché prima l'avevo tolto Ve l'ho detto per i cosi Sentire un po' di suono Da Anche piacevole No per carità Ora a questo punto Che cosa andiamo a fare Ragazzuoli Vado a vedere quanti Enchant Ho nella farm di pesca E vediamo Allora ragazzini Li ho guardati Ci sono un bot di enchanti In verità Quindi effettivamente Potremmo già rifarci In corso dell'episodio Magari Ho intenzione di farlo Off camera Perché penso Posso capire Che sia pallosissimo Fare enchanting Qui ce ne sono un botto Qui ci sono canne a zuccheri E tutto il resto E poi qui ancora Qualcosa in fondo C'è Quindi Va abbastanza bene Qui ci sono un botto di selle Una cosa infinita Qui qualche enchante c'è Più da sommare Quelli che ci sono a casa E qualcuno che è là sotto Ho visto Non al 100% Saremo un Enchant Livello Al massimo Al 50% Del totale 40% Che alla fine È comunque buono Perché Gli utensili Li riusciremo a incantare Sicuramente tutti Ho già visto L'armatura Ovviamente Non abbiamo i torns Non abbiamo tante cose Quindi non può funzionare Guardate Zombacciolo Piccolo Ciao Madonna ragazzi Quanti Eeeh Oh ancora La smettiamo La smettiamo Ok perfetto Quindi ragazzi Come vi ho detto Nella intro Se arriviamo a 3000 Mi piace Il prossimo episodio XXL Iniziamo Cioè il prossimo episodio Che faccio XXL Iniziamo a fare L'Iron Titan Cioè domani Praticamente Potremmo già vedere Un Iron Titan In costruzione Un cantiere di Iron Titan Perché tanto Facendo i conti I materiali ce li ho Possiamo magari Leggermente variare L'utilizzo dei materiali Però comunque Andare a costruire Le prime parti Sicuramente Le inizieremo a fare Le prime parti Costruiremo Il tutto E poi inizieremo a fare Tutti i vari sistemi Che te lo portano a casa E comunque Iniziare a lavorare Veramente bene Su questa roba Potremmo già costruire Magari poi qualche Beacon Qualcosa di più figo In maniera proprio Proprio gigante E va bene Qui un po' di ferro Ce n'è Ma 40 blocchi Sono pochi Potremmo davvero Produrre 40 blocchi Ma di meno 40 blocchi all'ora Uno stack di blocchi All'ora Cioè potrebbe essere Qualcosa veramente Di inaudito Quindi ragazzuoli Mi raccomando Giudi mi piace A 3000 mi piace Ve lo ridico Facciamo domani L'episodio XXL 25 minuti In cui iniziamo a buildare L'Iron Titan Comunque ragazzuoli Per questo video è tutto Ringrazio tantissimo Per la visione Deve lasciare mi piace Se il video è piaciuto Iscrivi al canale Se avete fatto Di condividere il video Su Facebook E fammi lasciare persone Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook, Instagram E Telegram E vi facciamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi